In I Place è una canzone che a detta di Mike Offield durante un live si sente la registrazione dice parla di leprechaun, 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 sono i leprechauni, è una creatura mitologica irlandese, sono dei folletti mignon, dei folletti piccolini vestiti di verde con la barba lunga sono dei folletti, dei gnomini presenti nella mitologia irlandese Mike Offield dice ancora nell'81 quando c'è un live durante la setlist, durante il concerto dice adesso proponiamo una canzone nuova che parla di leprechauni e il bello è che credo che era l'81 quindi quella canzone lì l'aveva suonata ma non vedrà la luce prima di due anni circa e è stata una cosa simpatica da sentire durante la registrazione questa piccola curiosità. C'è anche un film che mi viene in mente che avevo tirato giù per caso, si chiama appunto leprechaun ed è un film del 93, è un film horror, però è un film scrauso, è un horror comico perché c'è un po' di plasticone dentro, c'è questo personaggio, questo gnomo che è un po' plasticone tipo fantaghiro, però è ben cattivo, è ben guardato distrattamente e mi è subito tornata in mente in High Place, questa canzone Nelle Alte Sfere, cantata da John Anderson che ha un bel arpeggio di tastiera al suo interno e ha una bella melodia. Concludiamo Crisis parlando, accennando a Taurus 3 che è la terza e ultima parte della serie Taurus iniziata con due album precedenti con QE2 e continuata con Five Miles Out, la canzone più corta del disco, questo gioiellino, veramente gioiellino perché è tutto un pezzo musicale spagnolo con un sacco di chitarra classica e spagnola, ci sono un sacco di sovrincisioni di chitarra sulla parte finale di questa canzoncina, ce ne sono tantissime, non so quante sono ma quando si alza volume spara tantissimo e la chitarra di acutica di Michael Field è veramente eccezionale perché ha un bel suono spagnolo, un bel suono pieno e anche la melodia è molto carina e proprio richiama certe atmosfere tipiche del flamenco con alcuni suoni che ha usato, c'è scritto che ha usato gli stivali, qualche nachera eccetera. Questo disco qua è stato molto importante perché ha portato di nuovo Mike al grande pubblico, lo ha riportato al grande pubblico e lo ha fatto egregiamente regalando hit supersoniche come mulei shadow e fuori gli affermi. Per adesso la formula adottata da Mike per accontentare la Virgin, cioè di mettere nel lato A un pezzo lungo per soddisfare i bisogni creativi di Mike e nel lato B tutte le canzoni cantate per soddisfare la Virgin. Per adesso questa formula funziona, funziona alla grande. La farà ancora un po' prossimamente su qualche altro album. L'aveva già fatta prima, sempre proprio per lo stesso motivo. È stata una bella genialata da usare. E con questo ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.